Da stasera a Elvia, la nostra festa patronale, dopo due anni di stop, ritorna la festa patronale in onore di Maria Santissima del Soccorso. Elvia, le iniziative programmate per la festa patronale del comune di San Severo, dedicata alla Madonna Nera del Soccorso, e che quest'anno avrà luogo dal 13 al 18 maggio. Protagonisti assoluti della festa famosa anche oltre i confini regionali e nazionali, i fuochi d'artificio a terra, le cosiddette batterie. Magie di luci e polvere da sparo riempiono l'aria e accompagnano il solenne passaggio della bellissima Madonna Nera. Queste le dichiarazioni e le raccomandazioni al popolo sanseverese da parte del primo cittadino, Francesco Miglio. Voglio ringraziare innanzitutto il prefetto di Foggia, le forze di polizia, i vigili del fuoco, la polizia locale, le associazioni, tutte indistintamente, i pirotecnici che si sono messi a disposizione e hanno anche loro fatto un grande sforzo, uno sforzo corale di tutti per rendere questa nostra festa bella come tutti gli anni. Una raccomandazione a tutti i sanseveresi di essere ospitali, accoglienti, gentili, rispettosi anche delle prescrizioni che stiamo fissando nelle nostre ordinanze. Facciamo in modo che la nostra festa faccia parlare bene di sé, bene della nostra città, che sia un momento di festa per tutti, per tutti noi sanseveresi e ne abbiamo davvero bisogno. Buona festa del soccorso Sansevero, buona festa patronale a tutti.